In questo video vedremo come è più semplice e come vi può aiutare a creare ed applicare dei fraseggi sul set, conoscendo le basi del solfeggio ritmico. I miei allievi, fin dall'inizio, cerco sempre di aiutarli ad imparare fraseggi e groove, insomma tutto quello che devono suonare, facendoglielo cantare. Questo perché aiuta la mente a memorizzare il disegno ritmico e poi a saperlo già applicare o perlomeno capire dove i colpi si posizionano. Certo non è una cosa immediata, bisogna fare un po' di pratica, però sono sicuro che questo metodo può aiutare tanti di voi. Certo studiare solfeggio molte volte risulta palloso perché non si trova uno scopo in quello che si studia, però vi garantisco che col tempo vi aiuterà e vi darà grossi benefici. Per esempio quando ascolti un brano capire cosa viene suonato non è da poco, poter trascrivere le vostre canzoni o i vostri groove, i vostri feel preferiti, insomma un bel mondo ampio che vi aiuterà e non poco. Voglio illustrarvi come il solfeggio ritmico, quindi cantare ciò che devi suonare, ti aiuta appunto nel tuo esercizio e nel tuo studio giornaliero. Qui sotto trovate il link al pdf con il fraseggio che vedremo in questo video e altri cinque esempi che potrete studiare poi voi. Inoltre trovate un altro link che vi farà scaricare l'MP3 con gli stessi esercizi solfeggiati e suonati poi sul rullante. Prendiamo un fraseggio molto semplice che avrete sentito in tante canzoni ma che molti di voi se lo vedessero scritto o comunque se dovessero appunto trascriverlo non saprebbero neanche da dove iniziare. Allora la trovate scritta con il riferimento appunto degli ottavi quindi 1e, 2e, 3e, 4e sopra la partitura. Misura da quattro quarti, quattro figure ritmiche diverse e ve la canto suonerebbe così. 3e via. Ta 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 ta. Come vedete nel fraseggio che noi stiamo trattando adesso sul 3 abbiamo una pausa di un sedicesimo. Allora quello che consiglio è che quando trovate appunto le pause nei vostri fraseggi, nelle vostre figure che andate a studiare, cantatevela proprio perché anche cantarvi la pausa è un riferimento che vi aiuta poi a posizionare le note che dovrete suonare. Adesso io ve lo risolfeggio cantando anche la pausa. 3e via. Ta 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 ta. Un ta 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 ta. Quando poi lo andremo ad applicare quella pausa lì ci aiuterà appunto ad essere più precisi perché molte volte se no è automatico anticipare la nota sul battere. Io adesso per farvi vedere l'esercizio suonato suorullante utilizzerò un metronomo a 60 bpm e sul quarto mi manterrò il tempo con il charleston suonato col piede. 3e via. Ta 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 ta. Un ta 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 ta. Ta 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 ta. Un ta 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 ta. 3e via. con il piede che utilizzate poi per suonare il charleston perché poi quando lo applicherete potrete appunto mantenervi il beat e il tempo con il piede. Una volta assimilato, imparato, non vi resta che spostare i colpi e creare qualcosa utilizzando appunto questo fraseggio di un po' più originale. Mi raccomando scaricate il pdf e il mp3 cercate di ascoltare appunto gli esercizi e lavorateci su e divertitevi. Poi potreste prendere anche diverse figure dai fraseggi che vi ho proposto e crearne qualcuno anche di vostro. È stato veloce questo video però devo dire che vi ho lasciato un po' di lavoro da fare poi voi da soli. Se volete andare a vedere, io tempo fa avevo già fatto un paio di video su il solfeggio ritmico, se poi vi interesserà approfondire ancora l'argomento basta che me lo scrivete qui nei commenti e cercherò di realizzare altri video sull'argomento. Non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon divertimento, come sempre buon groove e ci vediamo prestissimo. Ciao!